Musica Podenzana è un piccolo comune dell'Armunigiana, conta circa 2000 abitanti, suddiviso su due frazioni più importanti, una è Podenzana e l'altra è molte divanti. Quella che non interessa è Podenzana Capoluogo, si trova sul lato destro della sponda del Magra, lungo una collina percorsa da una strada di circa 7 km, nel corso della quale si trovano tutta una serie di agglomerati urbani, alcuni con un'importanza storica medioevale, altri di recente costruzione. Musica Musica Il primo tratto di strada è dominato dal castello di Podenzana, riportato al suo attuale splendore della famiglia Morandi e termina nella parte più a nord-ovest, a confini quindi con la Liguria e la provincia di La Spezia, là dove troviamo appunto il ristorante Gambino. Musica 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 Altro elemento di interesse storico, culturale e turistico di Podenzana è il Santuario del Gaggio, che domina tutta la valle di Aulla e con una splendida vista sull'appennino tosco emiliano. Musica 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti